26enne Sommalo aggredisce 5 persone a Rimini tra i feriti anche una pesarese 120.000 presenze e 7 sanzioni bilancio della fiera di San Nicola 2021 Camera di commercio export del mobile marchigiano in crescita del 38% Sport vis pareggia contro il Pescara aperta la campagna abbonamenti per la carpegna prosciutto basket una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV il canale 633 del Digitale Terrestre bentornati a una nuova edizione del nostro telegiornale Rossini News in apertura parliamo di cronaca perché c'è anche una ragazza pesarese di 27 anni tra i feriti registrati nella giornata di sabato a Rimini a seguito di un'aggressione condotta da un cittadino somalo di 26 anni che ha coltellato prima a bordo di un bus e poi in strada un totale di 5 persone i dettagli in questo primo servizio c'è anche una pesarese tra le 5 persone coinvolte nella violenta aggressione che si è verificata nel tardo pomeriggio di sabato a Rimini e che è stata condotta da Somano e Dula un cittadino somalo di 26 anni il tutto è iniziato sul filobus linea numero 11 che da Riccione stava viaggiando in direzione Rimini le prime persone ad essere aggredite sono state le due donne addette al controllo dei biglietti salite sul mezzo a bordo del quale si trovava anche il 26enne risultato poi essere sprovvisto del titolo di viaggio dopo aver iniziato a stilare il verbale di multa però le due donne sono state accoltellate dall'uomo una al collo l'altra alla spalla con una lama che l'aggressore ha estratto dallo zaino tra lo shock e lo sconcerto degli altri passeggeri del bus e dopo aver minacciato anche l'autista il giovane somalo è riuscito a scendere dal mezzo e a scappare ed è proprio durante la fuga che il 26enne ha colpito con lo stesso coltello anche altre persone tra queste una giovane ragazza pesarese di 27 anni che fortunatamente però non ha riportato gravi conseguenze dalla lesione provocata dall'uomo dopo aver ferito la 27enne in via Olivetti l'uomo si è spostato in viale regina Elena lungo il quale ha colpito un'altra donna di 77 anni e infine anche un bambino di appena 6 anni il quale ha riportato le lesioni più gravi dopo l'intervento a cui è stato sottoposto nella nottata tra sabato e domenica all'ospedale infermi di Rimini la prognosi del piccolo rimane ancora riservata anche se non sarebbe più in pericolo di vita la folle corsa del somalo che lungo il tragitto ha tentato anche di derubare del cellulare un uomo che però si è riuscito a chiudere nella propria automobile si è interrotta poco dopo qualche centinaia di metri più distante rispetto al punto dell'ultima aggressione il 26enne è stato quindi arrestato e condotto in carcere nel primo interrogatorio svoltosi in questura appena dopo il fermo Dula, che era ospite di una struttura riccione gestita dalla Croce Rossa avrebbe ammesso di aver assunto cocaina prima dei fatti su di lui ora pesano i reati di tentato omicidio, tentata rapina e lesioni smentita invece la pista che attribuiva matrice terroristica a quanto accaduto Parliamo ora di sanità con gli aggiornamenti relativi all'andamento dei contagi da Covid-19 sul territorio regionale come ogni lunedì il bollettino del servizio sanità registra una diminuzione di nuovi casi e di tamponi processati nelle ultime 24 ore rispetto ai 986 test molecolari e antigenici analizzati sono 16 nuovi casi di Covid-19 segnalati nelle marche di questi soltanto uno è stato riscontrato nella provincia di Pesaro Urbino sempre nelle ultime 24 ore sono stati notificati due nuovi decessi legati al Covid si tratta di due uomini di 91 e 92 anni residenti rispettivamente a San Benedetto del Tronto e a Iesi sempre sul fronte sanitario parliamo ora di vaccini perché nel fine settimana il governatore della regione Francesco Acquaroli tramite la sua pagina Facebook ha reso noto che nelle marche sono state superate le 2 milioni di dosi somministrate con l'adesione alla campagna di circa l'80% dei cittadini marchigiani in età vaccinabile tempo di bilanci per l'edizione 2021 della Fiera di San Nicola che ha segnato il ritorno in città dopo un anno di stop a causa del Covid di una vera e propria tradizione pesarese diverse le novità introdotte proprio a causa della pandemia come ad esempio l'uso obbligatorio del Green Pass che ha portato ad avere 7 multe elevate nei 3 giorni di fiera sentiamo altri numeri e altri dati legati alla manifestazione in questo prossimo servizio Meno espositori e visitatori nuovi controlli introdotti a causa del Covid la tradizione invariata di uno dei principali appuntamenti attesi dalla città l'edizione 2021 ha sancito il ritorno della Fiera di San Nicola dopo lo stop imposto lo scorso anno a causa della pandemia un ritorno sul quale diverse e contrastanti sono state le opinioni dei protagonisti della 3 giorni pesarese i più critici tra cittadini e ambulanti hanno sottolineato un'affluenza in calo visibile tra i fruitori delle bancarelle rispetto all'ultima edizione quella del 2019 assenze ricondotte principalmente al possesso obbligatorio del Green Pass per poter accedere, visitare o fare acquisti alla fiera diverse invece le voci di altri pesaresi, turisti o espositori che viste le incertezze iniziali e le misure di sicurezza imposte sono comunque rimasti soddisfatti dello svolgimento della manifestazione e del pubblico che ne ha preso parte nelle 3 giornate sono state 7 in totale le sanzioni registrate per il mancato possesso della certificazione verde o per il non utilizzo della mascherina obbligatoria su tutto il perimetro della manifestazione il calo di visitatori rispetto al 2019 si attesta intorno al 20% dato confermato dal presidente di Pesaro Parcheggi Antonello delle Noci un meno 20% che è sicuramente molto più alto di quelle che sarebbero state le nostre aspettative un'edizione è quella della fiera assolutamente positiva più di 120 mila persone hanno frequentato la fiera 450 espositori che erano quelli che erano previsti quindi non ci sono stati mancanze rispetto a quelli che erano gli obiettivi i costi per gli espositori sono invariati dalle 2010 quindi dopo 11 anni di costi invariati quelli che sono stati necessari per far fronte agli steward e alla sicurezza se li è caricati la Pesaro Parcheggi e quindi un importante impegno un impegno che però ha dato i suoi risultati più di 30 persone erano contestualmente presenti come steward insieme alle forze dell'ordine la polizia municipale, i vigili del fuoco è stato un lavoro enorme fatto dalla prefettura di coordinamento però ecco devo dire che i risultati sono stati eccellenti in più di 2000 verifiche fatte quindi un campione importante e direi piuttosto esaustivo ecco che allora solo due multe nella giornata di venerdì e 5 nella giornata di domenica con più di 1000 controlli fatti nella giornata di sabato la fiera di San Nicola ha ospitato anche il camper dell'area Vasta 1 per offrire la possibilità ai fruitori della fiera di vaccinarsi contro il covid senza prenotazione circa una quarantina le somministrazioni di Moderna e Johnson & Johnson effettuate dai medici Asur alle spalle della palla di pomodoro in un'area allestita insieme alla protezione civile e alla croce rossa adesioni inferiori in ogni caso rispetto a quelle raccolte qualche settimana fa quando durante Candele sotto le stelle il camper si era fermato per la prima volta in Piazzale della Libertà a rimanere invariati nei tre giorni di fiera sono stati invece i numeri dei tamponi eseguiti nelle farmacie le numerose richieste pervenute hanno fatto esaurire le prenotazioni in diversi presidi comunali della città ampliando anche a turni serali il lavoro dei farmacisti è del 38% la crescita dell'export dell'industria del mobile marchigiano nel primo semestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020 dati incoraggianti con cui diverse aziende regionali affrontano questa settimana la fiera di Dubai dopo i buoni riscontri rilevati al Salone del Mobile di Milano uno scenario di rilancio esaminato sabato dalla Camera di Commercio delle Marche in uno speciale che potrete vedere mercoledì in prima serata alle 21.20 su Rossini TV e di cui vi proponiamo un estratto nelle prossime interviste realizzate da Daniele Sacchi siamo con Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio delle Marche in questo appuntamento di sabato 11 settembre che non è una data casuale siamo all'indomani della chiusura del Salone del Mobile di Milano siamo alla vigilia invece della Big Five di Dubai due momenti importanti per un comparto della nostra industria della nostra economia che si presenta ora con numeri confortanti i numeri che abbiamo avuto ieri sono numeri altamente positivi per quanto riguarda il settore produttivo del pesarese come il mobile e la meccanica ci sono dei numeri importanti che dobbiamo continuare a consolidare perché questi numeri provengono in raffronto dello scorso anno dove in questo periodo avevamo delle drammaticità molto forti proprio qui anche nel pesarese e non solo in tutta la regione Marche oggi abbiamo dei numeri positivi abbiamo dei numeri che dobbiamo attenzionare, migliorare e consolidarli per il 2022 abbiamo il mobile che nonostante le difficoltà di questi quasi due anni fa una performance di più 38% nel primo semestre del 2021 rispetto al 2020 ma anche rispetto al 2019 quindi siamo molto contenti, ritornano importanti mercati come la Russia e la Cina che erano stati riferimenti storici per gli operatori della nostra regione e quindi ci attestiamo con risultati straordinari ma ancora più importanti sono i risultati che abbiamo della meccanica ha quasi un 47% rispetto al primo semestre dell'anno scorso Cuba ha un fatturato di export diretto di quasi 2 miliardi di euro senza considerare poi tutto il ritorno che rimane nel territorio del conto terzismo quindi sono davvero dei numeri di riprese che ci fanno molto ben sperare diciamo intanto che siamo veramente molto orgogliosi del mobile della nostra regione che è uno dei settori che sta andando meglio da cui si intravede un futuro radioso e che la regione Marche ha intenzione, la giunta regionale dal presidente Acquaroli e a tutti quanti di sostenere in modo forte, robusto per rafforzare quelle filiere che sono collegate al mobile abbiamo avuto un risultato 2021 del 38% di crescita di questo settore quindi è davvero un momento positivo per rafforzarlo e per farlo diventare ancora più strutturato abbiamo messo nelle traiettorie di innovazione il comparto del mobile e dell'arredo come elemento di innovazione di ricerca e di sviluppo da sostenere finanziariamente metteremo molte risorse sulla competitività e sulla ricerca per fare diventare le imprese del settore del mobile sempre più competitive e più forti sui mercati come tutti sanno c'è un'attenzione sulle materie prime le aziende stanno correndo perché stanno esportando tantissimo in particolare quelle dell'arredamento ma anche quella della meccanica e c'è un'attenzione sulle materie prime che potrebbe tra virgolette creare delle difficoltà da un punto di vista di andamento produttivo le marche si confermono ancora una volta di essere una realtà manifatturiera tra le più dinamiche e confidiamo che questo trend possa consolidarsi apriamo ora la pagina delle segnalazioni dei telespettatori di Rossini TV che ci hanno informato questa mattina della grande quantità di rifiuti accatastati e abbandonati in viale Cesare Battisti all'angolo con viale Napoli materassi, tavole di legno e altri oggetti ingombranti come potete vedere in queste foto che sono stati lasciati a terra nelle adecenze dei cassonetti per la raccolta differenziata rifiuti che, viste le dimensioni, necessitano di un adeguato smaltimento attivabile su appuntamento con marche multiservizi contattando il numero 800 600 999 e che però, almeno fino a questa mattina, non era stato ancora registrato e vi ricordiamo che potete contattarci al nostro numero WhatsApp 370 366 72 10 per segnalarci tutte le situazioni che non vanno in città inviandoci messaggi, foto oppure anche dei video Continuiamo ora con delle notizie perché sono partiti i lavori per la bonifica dell'ex AMGA Ad annunciarlo sono stati il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l'assessore all'ambiente Aidi Morotti che questa mattina hanno fatto visita al cantiere grazie al quale si chiuderà una delle più importanti opere di riqualificazione attese dalla città La bonifica prevede la realizzazione di un nuovo polmone verde cittadino nel quale saranno piantumate più di 20 specie verdi 500 piante e oltre 200 alberi che saranno sostentati da un laghetto realizzato con le acque della falda purificate I lavori termineranno a maggio del 2022 E la fondazione di comunità Fano Flaminia Cesano ha consegnato un contributo di 3.000 euro all'impresa sociale articolo 32 ONLUS destinato alle famiglie in difficoltà nel territorio del comune di Terre Roveresche La somma utilizzata fa parte di un fondo messo a disposizione dalla fondazione di comunità del Banco Marchigiano nel progetto Insieme per la Comunità E si è svolto invece questo fine settimana il Motoraduno la musica della moto Memorial Paolo Prosperi organizzato dal registro storico Benelli e dedicato quest'anno al presidente dell'associazione scomparso circa un anno fa L'evento ha visto la straordinaria partecipazione di oltre 60 motociclette storiche costruite prima del 1965 La manifestazione ha anticipato l'inizio della Benelli Week 2021 manifestazione che chiama appunto a raccolta a Pesaro tutti gli appassionati della casa del Leoncino che ha preso il via a partire da oggi e che si concluderà il 19 settembre E si festeggerà proprio domenica 19 settembre il 150esimo anniversario della Banda di Candelara La giornata di festa inizierà dalle ore 10 con la presentazione del libro Banda di Candelara 1970-2020 Alle ore 11 invece avrà luogo il concerto del complesso bandistico di Candelara diretto dal maestro Michele Mangani con la partecipazione degli allievi della Scuola di Musica della Banda La mattinata si concluderà infine alle 13 con il pranzo su prenotazione aperto a tutti presso il ristorante La Quercia Per maggiori informazioni o per le prenotazioni è possibile contattare il numero 333-9759-736 Grande successo per la diciannovesima edizione di Brodetto Fest Oltre 50 gli eventi in programma durante il weekend che si è appena concluso tra cooking show, laboratori e tanti volti noti del piccolo schermo che hanno fatto registrare il tutto esaurito Il servizio è di Simone Celli 2000 partecipanti soltanto agli appuntamenti prenotabili online per non parlare del sold out degli eventi in programma È stata un successo anche la diciannovesima edizione di Brodetto Fest Andata in scena a Fano dal 10 al 12 settembre Tutto esaurito al pala Brodetto Cuore dell'evento tra cooking show e degustazioni Pubblico numerosissimo anche per il talk show sul biologico Il premio bianchello d'autore e i laboratori di Argonauta e casa Archilei Prese d'assalto poi le prenotazioni per le due uscite con la Brodetto Boat Le attività di Brodetto & Kids e grande successo anche per Pizza Bro e Meat Moretta Con la finalissima votata online da 13.000 utenti Ed è già tutto pronto per il fuori Brodetto Dal 17 settembre al 18 ottobre Zuppe di pesce a prezzo convenzionato in diversi ristoranti della provincia Questo ci dà solo tante soddisfazioni perché quasi 20 anni di Brodetto Ormai è una realtà della città e una realtà della regione Tant'è vero che tra le cose che vorremmo proporre Tra i nostri obiettivi di confedercenti C'è quello che questo piatto col tempo diventi rappresentativo Non solo della città di Fano ma di un'intera regione Perché la nostra è una regione che merita un piatto di questo tipo E ci sono tutte le condizioni insieme alla regione Marche Per lavorarci e per fare in modo che tutto Che fra qualche anno sia veramente così Diciamo che il Brodetto è una di quelle identità forti Che la regione Marche può esprimere Perché c'è in ogni città dove esiste una portualità Una marineria e quindi è un piatto che ci può unire In tutti i modi in tutte le località della nostra bella regione In più ha un'altra peculiarità Per la quale abbiamo creduto tutti quanti insieme Tutta la filiera istituzionale ha creduto in questo festival Perché è un modo per promuovere questa regione Noi abbiamo bisogno di abituare i turisti A venire a scoprire le Marche per fare delle esperienze Partendo da quelle enogastronomiche Oggi il turista ha bisogno di fare esperienze emozionali Di provare qualcosa, di venire a degustare Ecco il Brodetto è senz'altro una di quelle motivazioni Che rende appetibile il nostro sistema attrattivo per il turista E quindi dobbiamo crederci, puntarci e farlo sempre crescere Anche con dei partner istituzionali che ci affiancano come regione in questo grande progetto Quando si parla di Brodetto fanno una cosa seria Lo è seria davvero perché è un evento che si è consolidato, è maturato E ogni anno è cresciuto Sempre più apprezzato Ma ha un suo significato Perché ha una radice profonda e un legame forte con il territorio È un festival Questo festival delle zuppe di pesce del Brodetto Significa legame con la storia della nostra città Legame con le tradizioni, con il mare Ma è anche moderno perché è un legame con la nostra enogastronomia E la valorizzazione dei prodotti di qualità Quindi un festival per tutti i gusti Un momento culturale, un momento enogastronomico E un momento anche di divertimento La manifestazione riesce ogni anno di più A coniugare la valorizzazione turistica, ittica ed enogastronomica di Fano e non solo I dati che ci dicono che i nostri alberghi sono esauriti Prenotazioni ci sono Prenotazioni nei ristoranti Perciò ecco anche i cooking show dei nostri chef Che ormai da tanti anni propongono i loro piatti rivisitati sul pesce O sulla zuppa di pesce In questi giorni abbiamo già raggiunto il massimo delle prenotazioni È molto importante per questo territorio anche dare continuità a un'iniziativa del genere Che va proprio a valorizzare al pieno quello che è il mondo ittico Accanto a questo ho visto anche gli stand delle Prologo che valorizzano tutti i nostri prodotti enogastronomici Credo che dobbiamo puntare su iniziative come queste anche per promuovere e difendere il nostro Made in Italy Questi eventi servono non solo a divulgare ma anche a formare le nuove generazioni Sono convinto che partecipando a iniziative come queste si potranno soltanto che apprezzare quelle che sono le nostre eccellenze L'Italia si caratterizza proprio per le peculiarità enogastronomiche e dobbiamo puntare soprattutto su questo Tanti sono stati anche gli ospiti che hanno calcato il palco del Palabrodetto Volti noti della TV come Roberta Capua, Federico Quaranta, Tinto e Marino Bartoletti che è già pronto a tornare Io sono onnivoro e quindi qua sento il profumo di cose buone ed è il vero motivo per cui sono venuto Se mi invitate io vengo già col tovagliolone perché se no mi sporco tutto E vi ricordiamo che venerdì in prima serata su Rossini TV alle 21.20 potrete seguire uno speciale dedicato proprio alla diciannovesima edizione del Brodetto Fest E grande successo ha raccolto anche Disco Diva, il festival internazionale della disco music di Gabice Monte Nato nel 2015 e giunto alla sua settima edizione L'evento organizzato da Disco Diva Events in collaborazione con il comune di Gabice Mare Quest'anno ha avuto come main sponsor Gucci a cui si è affiancato lo sponsor Mini oltre a Riviera Banca Le nostre telecamere hanno seguito l'evento che vi racconteremo nel dettaglio con uno speciale in onda su Rossini TV Giovedì alle 21.20 e che vi anticipiamo con queste prossime interviste A giusta conclusione di quest'estate c'è questa bellissima festa Quindi settima edizione di Disco Diva, grandi ospiti Non possiamo ballare perché conosciamo l'enorme covid ma è comunque una gran bella serata Quindi ci aspettiamo che la gente si possa divertire per chiudere in bellezza l'estate Balleremo sulle sedie ma non sopra le sedie ma seduti sulla sedia Quindi buon divertimento, vi aspettiamo a Gabice Mare e a Gabice Monte il prossimo anno E quest'anno appunto poi un'edizione speciale oltre che essere una limite di edizione perché vede questa partnership importante con Gucci, Mini oltre al nostro sponsor storico Riviera Banca Quest'anno è un'edizione particolare perché abbiamo uno step molto grosso Infatti vediamo l'ingresso della Maison Gucci che ci accompagnerà in questo festival Sicuramente il nostro intento è quello di, come dicevo poc'anzi, di reiniziare a prendere possesso della nostra vita Che per due anni ahimè c'è stata tolta Quindi anche proprio a livello psicologico ripensare alla musica non solo estremamente come ballo ma anche proprio di uscire fuori dai problemi che ci hanno assillati in questi anni Quest'anno come dicevo sarà un grande giro di vita, un'edizione particolare che aprirà la strada a delle edizioni sempre più importanti La disco assolutamente non è un genere datato, anzi anche i giovani, ieri sera abbiamo una pleatea di giovani veramente sotto i 30 anni E questa è la dimostrazione, quindi disco music per sempre Il disco Diva è una delle carte fondamentali che da 7 anni ad oggi ci giochiamo, anno dopo anno, è un evento che sta crescendo in maniera esponenziale Abbiamo già sin dalla prima edizione comunque avuto la fortuna di accogliere sulla nostra piazza principale dell'evento che è Piazza Valbruna Gabicemonte Degli artisti internazionali che sono cresciuti negli anni Quando abbiamo pensato a questo progetto insieme alla direzione artistica, ai fratelli Tassinari, al sindaco È stato un progetto veramente che è nato da uno studio approfondito, non assolutamente a caso E abbiamo proprio scelto Gabicemonte perché qui è nata la storia della disco music italiana Con la nascita della Baia degli Angeli, con l'Eder Rock, con tutti questi locali che negli anni 70 hanno cominciato a popolare la riviera E a rendere comunque questo nostro territorio attrattivo anche da questo punto di vista dell'evento E quindi senza ombra di dubbio Gabicemonte è disco Diva E apriamo ora la pagina sportiva del nostro telegiornale parlando di calcio con i match del fine settimana In cui i protagonisti sono state la Vis Pesaro e l'Alma Juventus Fano E parlando anche di basket con l'apertura della campagna abbonamenti della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Il servizio Il calcio bianco-rosso torna protagonista dello sport del fine settimana Nella trasferta di domenica, infatti, la Vis Pesaro ha sfiorato la vittoria contro il Pescara Chiudendo la partita con il risultato finale di 2-2 La prima frazione di gioco è terminata 1-1 Con i ragazzi di Mister Banchini in svantaggio dopo due minuti dal fischio d'inizio La situazione è stata poi sbloccata 30 minuti dopo con il gol messo a segno da Cannavò su rigore Sempre in parità terminerà anche il secondo tempo Con una nuova rete segnata da Rubin per i bianco-rossi Che dopo l'espulsione di Cannavò termineranno il match in 10 E con un ulteriore gol registrato anche dagli avversari Un 2-2 che non lascia soddisfatto Mister Banchini Il quale ha commentato così l'incontro nel post partita Io sono rammaricato da un certo punto di vista Vedendo quello che è successo in campo Perché la squadra ha reagito e non solo a livello nervoso Ma ha reagito portando dei contenuti Secondo me cerco sempre di poi fare delle analisi analitiche Andiamo via da un campo come questo Contro una squadra che ha grandissimi valori e organizzazione Con sei parate del portiere avversario Secondo me alcune veramente importanti E con una prestazione dove nella fase centrale del secondo tempo Mi sembrava di riuscire anche a dominare il gioco È normale che se uno guarda solo gli ultimi 10 minuti Dove siamo in 10, rimaniamo con una linea 5 schierata E facciamo un blocco difensivo basso E vai a casa con un'idea diversa Però sinceramente sono soddisfatto della prestazione Ma sono un pochettino ammareggiato per il risultato In pareggio è terminato anche l'incontro tra il Tolentino e l'Alma Juventus Fano In Granata vengono sconfitti dagli avversari soltanto ai calci di rigore per 5-4 Risultato che permette al Tolentino di qualificarsi nel turno preliminare di Coppa Italia ad eliminazione diretta Quella di oggi invece è una giornata importante per il basket e per la Carpegna Prosciutto Pesaro Si è aperta questa mattina infatti la campagna abbonamenti per la stagione 2021-2022 Che permetterà a chi sottoscriverà la tessera L'accesso alle 15 partite del campionato Che vedranno impegnati i ragazzi di Coach Petrovic sul parquet casalingo Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere allo spazio Kona di India Gagarin Presso il WL Point del Pro di Sport Pesaro Oppure online sul sito vivaticket.it Nel frattempo la squadra, rientrata ieri da Brindisi al termine del Memorial Pentassuglia Si è subito rimessa in moto con gli allenamenti in palestra In vista del primo impegno ufficiale Previsto per sabato 18 settembre alle ore 12 all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno La WL si sfiderà contro la squadra vincente del Girone A Nel match valido per i quarti di finale della Supercoppa 2021 E questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale Vi ricordiamo la prima serata di Rossini TV Questa sera alle 21.20 Un nuovo appuntamento con l'arte della bellezza Protagonisti di questa puntata saranno Sara e Andrea Le repliche oltre all'appuntamento di questa sera Sono indicate appunto nel cartello a partire da domani Martedì alle 18.45 E le repliche le potrete seguire anche mercoledì nella mattinata alle ore 9 Giovedì alle 23.15 Sabato alle ore 20 E domenica nella mattinata alle 8.30 E poi nel pomeriggio alle 15 E vi ricordiamo che è scaricabile su tutti gli store digitali Apple e Android L'applicazione di Rossini TV Attraverso la quale potrete seguire in diretta 24 ore su 24 il canale 633 Oppure rivedere le notizie e i programmi già andati in onda in televisione Vi ricordo inoltre che l'informazione torna puntuale su Rossini TV Domani mattina in diretta alle 7.20 Con una nuova edizione della nostra Rassegna Stampa Grazie per averci seguito con il nostro telegiornale Un buon proseguimento di serata su Rossini TV